Dove sono? È passato un anno, forse due. Non so da quanto tempo sono qua, i corridoi sono lunghi e bui, un labirinto senza via d'uscita. Quanto è passato dall'ultima volta che ho visto la luce? Quanto tempo fa è finito l'olio nella lampada? Non mi ricordo quando ho visto l'ultima persona, mi ricordo solo un'esplosione vicina. Certi giorni sento nuovi rumori, vedo ombre oscure nello spazio nero, li provo a seguire sperando di trovare qualsiasi cosa. Sto diventando un ratto, sono cieco, non ho bisogno degli occhi, conosco queste stanze palmo ma qua è bagnato. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa, non ho bisogno di trovare qualsiasi cosa. Dove sono tutti? Mi hanno abbandonato qua? Sono stato sottoterra per così a lungo? Ora ricordo Vivevo in questa casa Era in alto su un colle Da lì dominava tutta la plata Vivevo lì da sempre Mio padre aveva costruito da solo la sua casa Io ho fatto lo stesso E poco vicino costruì sasso dopo sasso la mia casa Quella che un giorno diventò la casa della mia famiglia Mi svegliavo ogni mattina per il primo turno in miniera Le prime esplosioni del giorno mi indicavano la strada verso il pozzo Carovani di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di tutto era la laveria Il suo rumore assordante si mescolava alle urla degli operai e al frastuono delle ruspe Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Il centro di camion e persone portavano i metalli fuori dal paese Grazie a tutti. Una volta entrati in miniera, molti dei suoni cessavano, lasciando spazio alla ritmicità dei picconi. Il mondo che conoscevo è scomparso. Non mi appartiene più tutto questo. Domine, esaudi orazione meo. Ech namor neo, a te ve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.